Quindi dopo rientro dal Golfo siamo riempiti tutti pian piano, la guerra è finita, siamo entrati in, se gli vuole anche Gianmarco e Maurizio sono rientrati fra di noi e abbiamo continuato a fare le nostre operazioni normali da Piacenza. Poi io ho fatto, sono rimasto a Piacenza al gruppo fino al 95, quindi sono rimasto a Piacenza dal 90, ho fatto altri 5 anni, dall'86 al 90 a Ghedi, poi dal 90 al 95 a Piacenza e sono stato, poi dopo mi hanno offerto la possibilità di poter andare a fare l'istruttore proprio a Cottesmore, dove avevo fatto il mio corso da allievo e ho accettato. A Cottesmore sono rimasto dall'agosto del 95 fino ad aprile 99, quasi 4 anni, perché poi nel corso dello sviluppo lì è stato interessante, è una bellissima esperienza istruzionale, era un operation al conversion unit dove ho fatto l'istruttore. Inizialmente ho fatto l'istruttore dal 95 al 96, lì c'erano 3-4 gruppi di volo, l'Alfa comandato da un tedesco, il Bravo, quindi il gruppo Bravo comandato da un inglese, questi erano gli accordi che c'erano nel consorzio inter-tri nazionale che era stato creato lì a Cottesmore. Io sono andato in Inghilterra, qui in predicato per diventare poi il comandante di gruppo del Charlie, infatti ho fatto un anno di come pilota, diciamo istruttore al gruppo Alfa, al gruppo tedesco, al termine, quindi nel 96, nell'estate del 96, sono poi stato assegnato al gruppo Charlie e sono diventato il comandante del gruppo Charlie. E ho fatto il mio comando del gruppo fino all'aprile del 99. Poi nel corso di questi anni è stata presa la decisione di chiudere Cottesmore, quindi Cottesmore come Operation Convention Unit del Tornado è stata chiusa proprio nel 99. E quindi ognuna delle tre nazioni si è portata l'addestramento in casa, noi l'abbiamo portato qui a Ghedi, gli inglesi e i tedeschi in altre basi delle rispettive nazioni. Quindi io alla fine sono stato, tra virgolette, l'ultimo comandante del gruppo Charlie a Cottesmore, questa Operation Convention Unit. Nel frattempo, proprio in questi ultimi anni, proprio in Inghilterra, ho maturato l'intenzione di lasciare l'aeronautica, perché ormai la mia vita operativa stava finendo, che poi per un pilota dell'aeronautica militare la vita operativa ai gruppi di volo è la più bella, la più esaltante in tutti i sensi. Un po' tutti hanno sempre visto il termine della vita operativa come un termine della parte bella, diciamo, dell'aeronautica. Quindi chi è entrato in Accademia ha la possibilità di fare carriera e quindi andare nei reparti centrali e così via. Io a suo tempo ero stato assegnato dall'Inghilterra al terzo reparto dello Stato Maggiore a Roma, che è un bel reparto. Tra l'altro ero stato assegnato anche in un bello ufficio, però avevo già malatturato la mia idea di lasciare. Il comandante Casamati, che tra l'altro è qui, anche lui adesso è l'accantable manager di Erdolomiti, mi aveva proposto il suo tempo di entrare in Erdolomiti. Avevo altre proposte, tipo andare in Lauda Air a quel tempo, però avevo due proposte, questa o quella della Lauda Air. In realtà tra le due ho preferito Erdolomiti. E come dico sempre, per me è stata la mia fortuna. Alla fine in Erdolomiti, come ho detto anche prima, mi sarebbe piaciuto entrare in Erdolomiti, quando sono entrato, anzi, in Erdolomiti, mi sono detto speriamo di restarci fino alla pensione, perché io già a quel tempo, insomma, avevo 39 anni, però insomma era questa l'idea. E alla fine, poi è successo, io adesso non mi manca molto la pensione, però ormai sto per raggiungere, fra un anno e mezzo raggiungo i limiti di età, e quindi di fatto io ho già raggiunto la pensione di vecchiaia, quindi vogliamo essere precisi, questi i miei piccoli dettagli personali. Però alla fine sì, sono rimasto e ho avuto veramente la fortuna di entrare in Erdolomiti, perché tanti colleghi che invece addirittura sono entrati nell'Italia espressa, mi ricordo che tanti colleghi, verso la fine del, io sto nel 94-95, prima di andare in Inghilterra ho fatto la scuola di guerra, e in quel periodo dalla scuola di guerra c'erano vari colleghi che davano dimissioni dall'aeronautica lasciando la scuola di guerra per andare nelle varie compagnie aeree civili, e uno di questi era, mi ricordo al tempo, era Aliexpress, tanto che tutti un po' li guardavano con invidia e tutto il resto. Io non avevo ancora deciso di lasciare, stavo maturando l'idea, infatti poi la lascerò successivamente, dopo qualche anno, perché dal 95 al 99 sono rimasto in aeronautica. Però poi con l'atto, cioè alla fine anche questi colleghi si sono trovati, nonostante tutti pensassero che ormai entrando diciamo in Alitalia espressa ed è comunque in Alitalia, la compagnia di bandiera e tutto il resto, erano tutti insomma abbastanza tranquilli sulla continuità del lavoro, in effetti poi nel lato pratico purtroppo, per tanti di loro non è stato così e sono stati costretti quindi a lasciare poi all'Italia ed essere, andare in giro un po' per il mondo alla fine e trovarsi lavoro da qualche altra parte o addirittura in cassa integrazione. Io invece questa sfortuna non l'ho avuta e ho avuto proprio la fortuna di entrare nell'Aronomite, dove ho vissuto tante emozioni anche qui, chiaramente diverse da quella dell'aeronautica, perché sono mondi completamente diversi, l'aeronautica militare, quello che si fa nell'aeronautica militare sono cose che non si possono replicare, è tutto un'altra cosa, un altro mondo, però un altro mondo dove ho vissuto tante emozioni anche qua, mi è piaciuto tanto e poi alla fine adesso sono il direttore operativo di Erdolomiti, ormai lo sono dal 2015, ma ho cominciato a pilotare il desk ancora il primo gennaio del 2005 diventando capo addestramento degli equipaggi e da quella data lì praticamente ho sempre avuto posizioni manageriali fino ad oggi. insomma, e questo è diciamo quello che è la mia fortuna. Ho volato tanto sulla TR, tanti dicono la TR, propeller e tutto il resto, in realtà adesso come adesso, devo dire la verità, è l'aeroplano su cui ho più ore di volo, perché sull'Embraer, che è l'aeroplano che volo adesso, evidentemente sì, ci sono dal 2009, però in realtà avendo appunto avuto posizioni principalmente manageriali non volo tanto, volo un po' tanto quanto volavo in aeronautica, mentre mediamente i colleghi volano al doppio di quello che volo io adesso, e quindi volo poco. Avendo cominciato la mia carriera sulla TR, prima come copilota e poi come comandante, prima di assumere gli incarichi manageriali, ho volato molto di più, quindi sulla TR perché volavo come volavano tutti, insomma. Poi da quando ho cominciato, ho cominciato a avere incarichi da scrivania, ho cominciato a volare più la scrivania degli aeroplani, e quindi ho volato un po' di meno. Però attualmente devo dire sì, la TR è l'aeroplano su cui ho più ore di volo, molti lo guardano in maniera strana, nel senso che non a tutti piace la TR, io non dico che mi piaccia, però è un aeroplano che mi ha segnato tantissimo, perché, devo dire la verità, mi ha completato come pilota, devo essere totalmente sincero, lo dico sempre, perché io non avevo mai volato un turboprop bimotore, con tutte le problematiche di performance legate a questo tipo di aeroplano. Avendo sempre volato i caccia, non mi sono mai preoccupato delle performance più di tanto, e in realtà lì ho scoperto un mondo nuovo e ho imparato tantissimo la TR. Secondo me la TR è un aeroplano molto educativo e ti insegna veramente a fare pilota, pilota civile, veramente in maniera molto seria. E tra l'altro ha bisogno di una certa skill di pilotaggio comunque, perché non è facilissimo da pilotare, in certe condizioni meteorologiche, tipo vento attraverso, vento forte, non è facile, è abbastanza difficile. E quindi comunque mi ha insegnato tanto. Quindi io comunque, come dico sempre, io rispetto tutto quello che è più pesante dell'aria, come diceva, mi ha sempre detto mio padre, mio padre mi ha sempre detto, guarda devi, se vuoi fare il pilota ricordati, ma devi sempre rispettare tutto quello che è più pesante dell'aria, perché essendo più pesante dell'aria purtroppo tende a scendere per terra evidentemente, e quindi va sempre rispettato. Quindi dall'ultraleggero, all'aliante, al turbopropo, al caccia, tutte vanno sempre rispettate, e sempre affrontati con una certa forma mentis, perché questo è il concetto del volo, secondo me. Ho parlato tantissimo, sono proprio, c'è la gola secchissima, però mi ha fatto piacere, insomma, ho raccontato un po' quella che è stata, è stata un po' la mia vita, la mia vita operativa, principalmente, ed è una cosa che amo tanto, io amo tanto il volo, adesso che devo smettere sarà brutta, come è stato brutto l'ultimo volo che ho volato sul tornado, era il 26 marzo del 1999, è stato qua, il gruppo in golo, la lacrimuccia c'era, quando finisci, è una vita, hai chiuso comunque un capitolo importantissimo della tua vita, dove hai vissuto delle emozioni veramente fortissime, ed è evidentemente una cosa che fa male, fa male, come ha fatto male quando ho dato la dimissione dell'aeronautica, e anche lì c'è andata la lacrimuccia, perché devo dire la verità, io ho dato l'aeronautica, ma l'aeronautica mi ha dato tanto, ed è la, ancora adesso mi emoziono, e quando devo lasciare quello, sarà uguale, perché alla fine lì, sarà la fine, andrò a volare probabilmente qualche ultra leggero, perché non credo che sarò per terra, sicuramente voglio continuare a volare, perché, perché a me piace, è sempre piaciuto e basta, è la mia passione, come dico sempre, e qui voglio concludere, io non ho mai lavorato, per me è sempre stato un divertimento. Grazie.